Abbiamo qui Giuseppe Scafarelli, autore dei segreti del copywriting. Ciao Giuseppe, volevo chiederti come sei venuto a conoscenza del sito autostima.net prima, Bruno editore poi. Ciao Valentina, in realtà io ho conosciuto Giacomo Bruno perché involontariamente stavo facendo le mie ricerche e mi capitò uno dei suoi ebook. E però da quei ebook, da cui lo posso anche dire, sono guadagnare online in sette giorni. Da quel momento mi si aprì un mondo perché non avevo proprio idea di poter passare dall'altro lato del monitor e poter guadagnarci un euro. In genere li spendevo solamente, quindi mi piacque molto, mi motivò, l'ho trovato un ottimo prodotto, anzi ve lo consiglio se non l'avete mai letto. E comunque lo contattai immediatamente sul sito e mi presentai al corso quello lì che avevo organizzato su come guadagnare con Google, che anche è stato molto carino. E da quel momento ho incominciato la mia piccola carriera di infomarketer. All'epoca ero un normale giurista e poi adesso mi sono trasformato nell'appassionato di infomarketing che sono. Ora ormai è un anno che sto studiando solamente come un pazzo tutte le tecniche e strategie di infomarketing americano, italiano. Sto andando dai grandi guru a seguire da vicino un po' le loro strategie. Frutto di questa mia passione poi c'è stato anche questo, addirittura questo ebook che ho scritto con autostima.net, diciamo Bruno Editore. Bruno Editore oggi, Bruno Editore. Senti, Giuseppe, come ti relazioni con gli altri autori e con i lettori, quindi anche con le persone che ti contattano dopo la pubblicazione? E che cosa fai per spingere il tuo ebook e vendere il tuo ebook anche all'esterno del nostro sito? Beh, rispondo a... come mi relaziono gli altri autori e in che senso? Non lo so, sul blog, se stimoli gli autori a rispondere a delle tematiche oppure se ti rivolgi più ai lettori barra clienti? Beh, in realtà io non sono proprio il modello perfetto dell'autore di Bruno Editore, però diciamo ogni tanto scrivo sul blog, scrivo dei post che hanno riscosso anche un certo successo, devo dire la verità. Non troppo frequentemente perché visto che sto lavorando a moltissimi progetti, ho pochissimo tempo a dedicare a tante cose che mi stanno anche tanto a cuore, però non posso fare tutto. E quindi no, però scrivo sul blog di Giacomo Bruno riguardo il copywriting, che è la scrittura persuasiva online, quindi dico qualche tecnica così, magari che ho scritto nel libro, qualcuna che non ho scritto, e sono sempre molto apprezzate. Poi è chiaro che l'argomento è solo per addetti ai lavori, però diciamo che gli argomenti che sono un po' più per tutti ne parlo negli altri progetti, fra cui ricchezzavera.com, che è quello per cui sono forse più conosciuto, oppure per argomenti più specifici dell'infomarketing. Per ora ho scritto solo questo ebook, ma sto lavorando anche a un altro progetto per infomarketer, cioè una struttura solo per infomarketer, quindi in un prossimo futuro magari se ne riparlerà. Ok, grazie Giuseppe, ciao. Grazie a te Valentina, grazie.